Centro Medico Iris. 30 specialisti sono al tuo servizio in un ambiente elegante e riservato per affrontare ogni tuo problema di salute. La sanità come l'hai sempre sognata. TG Ventonews, ben ritrovati. Giorno di Natale, iniziamo con gli auguri di buone feste a tutti voi, a nome della redazione e di tutta Videomedia. Iniziamo a parlare anche di queste festività dal lato dell'ordine pubblico perché sono stati giorni quelli che hanno preceduto il Natale di vertici nelle prefetture e nelle questure dopo l'allerta terrorismo che è stata diffusa da una circolare del Vignale dopo i fatti anche accaduti per esempio all'Università di Praga. Saranno piazze tra virgolette blindate per queste festività soprattutto in vista anche delle feste di Capodanno con i Varchi e con gli Steward. Partiamo da qua. Feste natalizie blindate. Da Roma è arrivata una circolare ai prefetti che gli allerta sul rischio terrorismo. Le tensioni in Medio Oriente, il delicato contesto politico internazionale ma anche i recenti fatti di cronaca con la sparatoria all'Università di Praga, baby gang e ambientalisti. Le piazze delle feste diventano bersaglio sensibile. Da Venezia a Verona, da Padova a Treviso, i prefetti vengono invitati a predisporre per tempo il piano sicurezza. Si susseguono le riunioni con le questure. Stiamo già adottando queste pianificazioni di servizi che sono stati potenziati non solo di presenza sul territorio nel periodo natalizio e anche per i festeggiamenti di Capodanno ma anche a livello proprio di prevenzione, anche l'adozione di misure personali nei confronti di persone che possono rappresentare una criticità. Sul terrorismo nessun soggetto può ritenersi escluso e quindi nella realtà come quella di Venezia che è un parco scenico mondiale dobbiamo tenere elevatissima l'attenzione sotto tutti i punti di vista. Dalle celebrazioni religiose alle feste e concerti in piazza ma non si trascureranno nemmeno gli assembramenti spontanei non organizzati, soprattutto la notte di Capodanno. Dovranno essere predisposte misure per evitare situazioni di eccessivo assembramento durante il countdown, anche facendo ricorso alla vigilanza dall'alto, occhi sulle piazze in festa. Tutta una serie di misure proprio di presenza, di intensificazione ma anche è un periodo in cui ci sono spostamenti le persone in ragione appunto delle festività, prendono la stazione piuttosto che l'autostrada anche con le specialità della Polizia di Stato. Potenziata l'attività informativa per scovare feste illegali come i rave party e monitorare i giovanissimi che richiamati attraverso canali social potrebbero, come già successo, creare caos e risse. Allerta anche per gli ambientalisti, rischio di azioni eclatanti la notte di San Silvestro. La circolare accende riflettori soprattutto su quei luoghi di particolare impatto mediatico, un'occasione di massima visibilità per iniziative di contestazione e dimostrative. Ecco vandali che nell'ultimo mese hanno preso più volte di mira proprio Venezia. Banco Scenico Mondiale senz'altro. Venezia è una capitale del mondo, non possiamo considerarla soltanto una capitale del cuore, dei nostri sentimenti. Una capitale che quindi l'attenzione arriva da tutte le parti. Natale è il tempo di regali, il regalo più grosso se lo fa il fisco, l'erario, perché nelle casse dello Stato entreranno 28 miliardi di euro in più rispetto alla 2022. E a fare la parte del leone per quanto riguarda queste contribuzioni sono le aziende e le famiglie venete con più 4 miliardi. Questo dice la CGA di Mestre. Il servizio. Natale con i fiocchi per le casse dello Stato. Nei primi dieci mesi di quest'anno infatti l'erario ha incassato 28 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Di questi 28 miliardi arrivano 4 anche dalle tasche dei cittadini e imprese del Veneto. E' quanto emerge dall'indagine dell'ufficio studio della CGA di Mestre. Un gettito destinato a crescere ancora di svariati miliardi, visto che tra novembre e dicembre vi sono tutta una serie di scadenze fiscali. Una per tutte la conto IVA, da versare di rientro dal Natale il 27 dicembre. Natale ricco per l'erario dunque, un po' meno per gli imprenditori. Tantissimi piccoli imprenditori della nostra regione sono costretti a confrontarsi quotidianamente con concorrenti stranieri che invece beneficiano di un fisco meno asfissiante del nostro e di servizi pubblici migliori. Ires e Irpef sono le imprese dirette che da gennaio ad ottobre sono cresciute di più. Del 15,7% la prima e dell'8,2% la seconda, portando nelle casse complessivamente 17,9 miliardi. L'odiata IVA è cresciuta invece dell'1,7%. Nel complesso, spiega la CGA, il maggior gettito però non sarebbe determinato da un aumentato carico fiscale su famiglie e imprese, ma piuttosto dalla combinazione di alcuni aspetti congenturali. Una crescita moderata, l'aumento dell'inflazione e il rinnovo di alcuni contratti di lavoro, oltre al rientro del taglio delle accise sui carburanti. Le aspettative sono tutte per il 2024. Nel 2024 la pressione fiscale è destinata a scendere. Grazie a ciò, anche i veneti avranno qualche centinaia di euro in tasca in più e qualche problema in meno. Tra i benefici per i lavoratori dipendenti, i fringe benefits più pesanti e per tutti i contribuenti, la rimodulazione delle aliquite e degli scaglioni dell'IRPEF, che dovrebbero comportare un alleggerimento del carico fiscale per chi ne beneficerà. Si toglie da una parte, ma si aggiunge dall'altra e il 2024 vede a aumentare l'IVA sui prodotti per l'igiene femminile e quelli per l'infanzia, le accise sulle sigarette e l'acidolare secca sugli affitti brevi. Ma saranno anche delle festività all'insegna dell'influenza e del Covid, con centinaia di migliaia di veneti a letto. Nei giorni scorsi anche gli Open Day per la vaccinazione anti-Covid organizzati dalle varie ULS. E allora sentiamo i dettagli. Cosa ho sentito? Male al braccio? Assolutamente niente. Poi l'ambulatorio in pieno fermento, prima delle ultime spese natalizie, ci si mette in fila per il vaccino anti-Covid. All'Open Day, piccola parte di prenotati, ma l'accesso è libero. Abbiamo entrambi dei lavori che hanno contatto col pubblico e una bimba piccola, quindi preferiamo tutelarci e abbiamo approfittato della giornata per fare il vaccino. Siamo qui presenti anche all'antivigilia e devo dire che l'afflusso è tranquillo ma costante. A Natale è atteso il picco di contagi Covid e influenza e quando le difese immunitarie scendono i virus possono addirittura sovrapporsi. Al SARS-CoV-2 segue il rischio di infezione a livello di polmoni e vie respiratorie. In effetti ho preso paura di questa ondata e prima non ci pensavo più di tanto, però siccome sono un soggetto fragile ho deciso proprio di brutto di farlo. Chiaro che le previsioni che dicono che le prossime settimane ci sarà senz'altro un aumento dei casi e ha indotto molti, soprattutto persone di età avanzata o con fragilità da patologie, a usufruire di questa offerta anche oggi. Ho sentito che c'è stata una reclorescenza del virus, per cui ho preferito, visto l'età che ho 68 anni, proteggermi. Tra Covid e influenza ha letto centinaia di Veneti, mentre nei prossimi tre giorni con la chiusura dei medici di base si teme l'assalto al pronto soccorso. Sono tranquillo adesso con il vaccino. Sempre fatto, gli anni sono tanti. Pranzi in compagnia, baci, abbracci, viaggi, assembramenti, le feste. Vanno vissute in sicurezza. Un minimo di regole, di igiene e di distanziamento personale ci vuole anche durante queste feste. E se siete ancora in tempo, ascoltate adesso i consigli della direttrice generale dell'Istituto Zoo Profilatico delle Travenenze, la dottoressa Ricci, che parla dei rischi alimentari e delle abbuffate, ma non solo, spiega anche come conservare il cibo che avanziamo durante questi cenoni. Sentiamo. Le tavolate delle feste, le portate sontuose, aperitivi, antipasti, primi, secondi, l'immancabile panettone, carne, pesce e formaggi, trionfa l'abbondanza e gli avanzi. E così si ricorre alla cucina del giorno dopo, il Vademecum dell'Istituto Zoo Profilatico Sperimentale delle Venezie per trascorrere un Natale sereno anche a tavola, evitare a se stessi e ai propri cari un mal di pancia sotto l'albero o peggio, infezioni. I rischi sono tanti e diversi, in alcuni casi c'è semplicemente un mal di pancia, ha malattie purtroppo gravissime che possono anche mettere a rischio la vita delle persone. Il re delle feste, il panettone, salvo, così come tutti i cibi secchi, nelle menù, attenzione, quando si servono cibi freschi, come il formaggio, quest'anno andato a ruba. Formaggio fresco, pesce crudo, salmone, prodotti a base di uova. In questo caso dobbiamo acquistarli solo dalla grande distribuzione che ci garantisce un trasporto refrigerato fino a casa ed essere sicuri che vengano consumati il prima possibile. Anche il fatto in casa non è sempre sinonimo di genuinità, soprattutto se ha le prime armi. Particolarmente le conserve fatte in casa. Le conserve sono un alimento a rischio perché possono essere causa di botulismo, che è una malattia gravissima. E per gli avanzi non si scherza con le creme a base di uova. Un quarto degli allevamenti di polli in Europa è colpito da salmonella. Ad esempio il tiramissuo, la maionese fatta in casa, io consiglierei di non conservare questi avanzi. Dispiace, ma in alcune situazioni forse vale la pena buttarli. Insaccati, pesce, cibo cotto che diventano polpette o polpettone. Qualsiasi avanzo abbiamo, se noi lo ricuciniamo, però dobbiamo essere sicuri proprio di cucinarlo, di arrivare a delle temperature elevate, possiamo consumarlo con tutta sicurezza. Più di otto veneti su dieci si trovano a fare conti con gli avanzi di cenone e pranzo e si cerca di evitare gli sprechi, per motivi etici, ambientali, ma anche economici. Il mio primo consiglio è sempre quello di cercare di non avanzare il cibo. Quindi facciamo la spesa in modo intelligente comprando quello che ci serve e cerchiamo di non avere avanzi. Il 2023, segnato soprattutto nell'ultimissima parte dalla dramma dei femminicidi. Vanessa Ballanna, ariese Pio X, probabilmente la prossima settimana, questa settimana ci sarà l'ultimo saluto. Giulia Cecchettini invece uccisa un mese prima di Vanessa. A ricordarle è stato anche il governatore Zaia nell'incontro di fine anno con la stampa. Zaia poi ha parlato di quello che è stato fatto in Veneto, delle sfide future del cantiere della Piedemontana che aprirà il 29 di dicembre, anche se non ci sarà ancora l'innesto con il casello di Montecchio con la A4. Per questo bisognerà attendere il mese di marzo. Sentiamo. Ultimo dell'anno alle porte, tempo di bilancio anche per la regione Veneto. A Palazzo Balbi, a Venezia, la giunta della regione è quasi al completo. Pronti, dati, numeri e resoconti. Ma il primo pensiero del presidente della regione, Luca Zaia, va a due giovani donne uccise brutalmente per mano di uomini che dicevano di amarle, Giulia Cecchettin e Vanessa Ballan, 22 e 26 anni. Vanessa, peraltro, rappresenta un caso recente e stiamo parlando della centottesima vittima di femminicidio. Penso che con Giulia, qui dal Veneto, sia nato qualcosa di straordinario, nel senso che è un big bang della storia. è una presa di coscienza della nostra comunità ed è anche una volontà da parte nostra di fare ancora di più. Il ricordo di Giulia e Vanessa è le ultime vittime in ordine di tempo, ma che fanno salire il bilancio quest'anno in Veneto ad otto donne uccise. Ma il 2023, anche l'anno della superstrada pedemontana Veneta, via libera l'apertura dell'ultimo tratto di quella che è l'opera infrastrutturale più importante del paese, oltre due miliardi di opere. Il 29 di dicembre, cioè la prossima settimana, apriamo la pedemontana e quindi apriremo gli ultimi 22 chilometri e 300 metri e vuol dire che questa infrastruttura non sarà completata, perché manca il casello. Faremo malo Montecchio Sud, avremo completato l'itinerario di 94 chilometri e mezzo. Ma in questo lungo anno il Veneto mette un importante tassello nella lunga strada per l'autonomia differenziata che apre all'esperanza di portarla definitivamente a casa nel 2024. Io immagino che il 2024 possa essere l'anno dell'autonomia. Approvata questa legge, noi potremo andare a firmare quella che è l'intesa, cioè il contratto tra lo Stato e la singola regione. Fondamentali per l'accelerata due azioni dell'attuale governo dicembre 2022 definite all'obbligatorietà dell'applicazione dei LEP e poi Febbraio 2023 legge Calderoli, dieci articoli per dire queste sono le linee generali per l'autonomia. Il Presidente della Repubblica ha controfirmato questo disegno di legge, è andato già in Senato in Commissione passato, adesso è in aula, sarà in aula il 16 di gennaio. Pratica aperta, con punto interrogativo, su una sua chiusura positiva quella della pista da Bob per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l'opzione al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e di Salvini una pista low cost, ma con tutto quello che serve. Si va avanti, vedremo quali saranno diciamo gli sviluppi, non ho particolari incertezze, vi dico qual è lo stato dell'arte, ma è mai questione di ore. Ma Milano-Cortina 2026 ricorda il Presidente non sono solo le Olimpiadi, ma finanziamenti per una molteplicità di opere infrastrutturali. La variante di Cortina ce la sognavamo, sono quasi 800 milioni di euro. La variante di Longarone la vedevamo col binocolo, 300 milioni di euro. La messa a norma e l'accessibilità totale dell'Arena di Verona 18 milioni di euro non aveva in programma. A Natale, il regalo più atteso, il più prezioso, è negli occhi di chi ti aspetta. Così è da Despar, ogni volta che la nostra porta si aprirà, noi saremo lì a darti più di quello che ti aspetti, a farti sentire a casa. Scegli chi ti sta vicino tutto l'anno e a Natale ancora di più. Despar, il Natale che ti aspetta. E ora vi raccontiamo una storia. Il freddo ha ucciso, nonostante le temperature insomma siano quasi primaverite in questi giorni, nelle ultime settimane la rigidità del meteo ha ucciso molte persone in Veneto, Closchar, senza tetto, sono sei le vittime. La Caritas di Vicenza ha avviato da tempo un progetto di recupero dal punto di vista lavorativo anche di queste persone. Tra i 56 che hanno beneficiato c'è anche Luciano che ci ha raccontato la sua storia che è anche una storia di riscatto. Sentiamo. Ho perso la casa, ho perso tutto. Ero partito per l'estero in Brasile, sono stato sei anni e quando sono tornato mi sono trovato in questa situazione. Una vita normalissima, un lavoro, amici, affetti, poi tutto cambia. Per anni Luciano ha fatto parte della lunga schiera di invisibili come i sei closchard morti in Veneto a dicembre a causa del freddo. La sua casa era diventata la strada, il suo tetto il cielo. Una vita difficile, insidiosa. Poi la rinascita con un percorso di recupero che oggi lo ha riportato ad essere sereno. Avevo lavoro, non avevo casa. il mio luogo era più che altro era chiampo. A volte andavo a dormire nella grotta. Due anni d'inferno alla ricerca disperata di un lavoro che non arrivava. La speranza però non ha mai abbandonato Luciano fino appunto alla rinascita arrivata grazie a un progetto della Caritas che pensa al reinserimento lavorativo e abitativo che attualmente segue 56 persone. Chi si trova in queste situazioni il mio unico consiglio è non demordere lottate. Io adesso sono custode dei parchi stupendo lavoro non è pesante all'aria aperta. Luciano ha ritrovato la strada e non dimentica chi ha condiviso con lui quegli anni distenti soprattutto d'inverno quando le temperature vanno sotto zero. sostenere le persone senza dimora in una inclusione è possibile e questo progetto lo ha dimostrato. Adesso invece parliamo di valori delle penne nere lo sapete a maggio la grande adunata forse la più grande adunata anche in termini di partecipazione di sempre sarà a Vicenza e gli alpini per bocca del Presidente Nazionale Sebastiano Favaro lanciano anche un appello a ritrovare certi valori che soprattutto i giovani stanno perdendo per le penne nere per esempio il governo dovrebbe ripensare a istituire un servizio la naia per quanto riguarda i giovani un servizio civile di fatto obbligatorio sentiamo posso dirlo l'ho detto anche domenica in piazza Duomo a Milano siamo preoccupati che ci sia in questo momento veramente un decadimento lasciatemi dire proprio dei valori veri quelli che i nostri veci hanno insegnato a noi che noi vorremmo insegnare ai giovani la dunata non è solo una festa la dunata annuale è un veicolo di messaggi alti e importanti la dunata numero 95 Vicentina e Veneta pensa ai giovani e guarda la società con preoccupazione baby gang mancanza di rispetto e solidarietà verso il prossimo noi siamo preoccupati perché ci stiamo accorgendo che sia diciamo la famiglia nella sua ormai struttura sia la scuola ecco dimentica di trasmettere proprio ai giovani valori che sono quelli che noi riteniamo importanti tra cui cito il senso del dovere e la solidarietà necessario garantire convivenza e rispetto reciproco a plasmare l'identità di un popolo molti fatti raccontati dalle cronache avrebbero potuto essere evitati se ci fosse stata più capacità di ascolto riteniamo che questi si possano costruire proprio in momenti insieme di condivisione motivo per cui ormai da 30 anni facciamo i campi scuola per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni ma da qualche anno abbiamo deciso di fare i campi scuola anche per i ragazzi dai 16 ai 25 anni non solo ragazzini in 600 ogni anno scelgono i campi alpini per le pene nere è un momento che serve a creare comunità e in due giorni i 600 posti vanno subito esauriti questo sta a dimostrare anche che se noi i giovani di oggi diamo l'opportunità i giovani rispondono quindi altro aspetto che chiediamo con forza a Parlamento e Governo di valutare fino in fondo se vogliono veramente dare la possibilità ai giovani di oggi di poter crescere e di poter capire quali sono gli elementi fondamentali per un vivere civile dialogo e rispetto verso tutti e tutte guardate che gli alpini le donne le hanno come principio sempre rispettate la mamma amorosa la figlia tra l'altro al nostro interno con l'avento del servizio volontario abbiamo anche tante ragazze che sono all'interno dell'associazione in termini veramente operativi e ora parliamo degli ultimi perché anche in questo periodo anzi soprattutto in questo periodo c'è molta assistenza e si organizzano dei pranzi e delle cene per i poveri siamo stati alla mensa del mezzanino a Vicenza dove ogni giorno arrivano più di cento persone sono gli invisibili che vivono nella marginalità e ogni notte cercano un giacilio un posto di fortuna dove dormire sentiamo bussa e ti sarà aperto ma il messaggio evangelico fu più veritiero al mezzanino ogni mattina le porte si aprono per 120 colazioni e poi le cene tre sere la settimana nel menù il cibo donato una dita di ristorazione cede i pasti in esubero stasera la casa propone abbiamo delle lasagne abbiamo dei petti di pollo della verdura cotta frutta il meglio del ristorante il meglio del consiglio non si sta uno viene mangia le nostre regole le condivide ma senza nessun pregiudizio reciproco queste sono le cose più belle vieni qui spesso è un anno è un anno e dopo cena cosa fai dove vai dormire a far fuori dormire dove dove piazza Matteotti sotto il saccappello e dove dormi in che zona ah non ce lo sono cambi tutte le volte si è meglio cambiare e non hai paura no paura sono io è gente che vive letteralmente in strada è gente che vive sotto i ponti è gente che vive su per le rampe di Montebergo che vive magari di qua di là in alloggi di fortuna e che magari la mattina è vero franco ogni tanto capita che magari fanno fanno a gara per chi ha superato meglio la notte al freddo cioè cose di questo genere qua ci sono tante solitudini chi vive una situazione estrema vive sempre in un contesto di solitudine le regole sono della buona convivenza finché possibile insomma a volte capita qualche piccolo screzio cerchiamo di far fronte di calmare gli animi microcosmo di storie e di cadute rialzarsi non è facile ci proveremo che fa il volontario durante il giorno mi muovo qualche lavoretto qualcosa e ecco dopo aspetto la mattina per venire qua o alle sere insomma ecco aiutate sempre il più bisognoso ricordatevelo e che Dio c'è la mano di buona e adesso andiamo invece a parlare di un'iniziativa che si è svolta nel carcere di Baldenich a Belluno sul palco i classici di Fabrizio De Andrè inchiusa la canzone Don Raffae ispirata al capo della camorra Raffaele Cutolo protagonista di una sua canzone e detenuto proprio per molti anni nella carcere di Belluno sentiamo Alla fine nella scaletta hanno inserito pure Don Raffae in cantina a Malvasia hanno suonato anche la canzone forse legata alla figura di Raffaele Cutolo camorrista per un periodo detenuto a Belluno nel loro concerto alla casa circondariale di Baldenich la band bellunese ha interpretato una lunga lista di successi di Fabrizio De Andrè davanti alla platea di detenuti un sabato pomeriggio diverso dal solito quindi per le persone recluse tra i testi di Faber diversi riferimenti alla vita di strada a incarcerati e carcerieri eppure nell'omonima canzone a un giudice Il periodo di Natale è anche periodo di concerti periodo di cori gospel un coro gospel come mai si era visto cento cantanti sul palco tre cori gospel assieme è accaduto nel Trevigiano tutto per beneficenza sentiamo The Colors of Gospel da San Michele del Tagliamento Seven Note Gospel Lab di Oderzo e Revelation Gospel Project da Casarsa della Delizia ovvero cento cantanti gospel tutti insieme sullo stesso palco Ad unire le voci e gli intenti il vuoto da colmare in Sierra Leone fatto di fame analfabetismo malattia attraverso la Around Us Onlus associazione di Monastier guidata dal dottore Massimo Delbianco che dal 2012 lavora con un gruppo di padri Giuseppini del Murialdo nella serata organizzata a Salgareda nel particolare si sono raccolti fondi per un progetto contro la malnutrizione la grande emergenza di oggi in Sierra Leone un drammatico crollo dello stato sociale con un aumento pazzesco dei costi per cui oggi la fame è forse il problema principale per la Sierra Leone dove il costo di un chilo di riso equivale a mezzo stipendio una terra già devastata da sanguinose guerre ancora in atto o passate fra tutte si ricorda ancora la guerra civile dei diamanti insanguinati l'associazione si occupa poi di medicina e salute ha costruito delle strutture sanitarie è uno dei paesi con il più alto tasso di mortalità neonatale di mortalità delle madri durante il parto e di mortalità della prima infanzia si cerca di facilitare i percorsi di studio che per le Nazioni Unite sono indispensabili per il miglioramento del paese negli anni abbiamo costruito delle scuole nuove abbiamo pagato i corsi universitari di tre studentesse e uno studente nella capitale free town in medicina e adesso chiudiamo con il messaggio del vescovo di Padova Monsignor Claudio Cipolla a tutti i fedeli ma non solo allora sentiamo le parole del vescovo di Padova feste natalizie blindate da Roma arrivata una circolare ai prefetti che gli allerta sul rischio terrorismo le tensioni in Medio Oriente il delicato contesto politico internazionale ma anche i recenti fatti di cronaca con la sparatoria all'università di Praga baby gang e ambientalisti le piazze delle feste diventano bersaglio sensibile da Venezia a Verona da Padova a Treviso i prefetti vengono invitati a predisporre per tempo il piano sicurezza si susseguono le riunioni con le questure stiamo già adottando queste pianificazioni di servizi che sono stati quindi potenziati non solo di presenza sul territorio nel periodo natalizio e anche per i festeggiamenti di Capodanno ma anche a livello proprio di prevenzione anche l'adozione di misure personali nei confronti di persone che possono rappresentare una criticità sul terrorismo nessun soggetto può ritenersi escluso e quindi in una realtà come quella di Venezia che è un parco scenico mondiale dobbiamo tenere elevatissima l'attenzione sotto tutti i punti di vista dalle celebrazioni religiose alle feste e concerti in piazza ma non si trascureranno nemmeno gli assembramenti spontanei non organizzati soprattutto la notte di Capodanno dovranno essere predisposte misure per evitare situazioni di eccessivo assembramento durante il countdown anche facendo ricorso alla vigilanza dall'alto occhi sulle piazze in festa una serie di misure proprio di presenza di intensificazione ma anche è un periodo in cui ci sono spostamenti le persone in ragione appunto delle festività prendono la stazione piuttosto che l'autostrada anche con le specialità della Polizia di Stato potenziata l'attività informativa per scovare feste illegali come i rave party e monitorare i giovanissimi che richiamati attraverso canali social potrebbero come già successo creare caos e risse allerta anche per gli ambientalisti rischio di azioni eclatanti la notte di San Silvestro la circolare accende riflettori soprattutto su quei luoghi di particolare impatto mediatico un'occasione di massima visibilità per iniziative di contestazione e dimostrative ecco vandali che nell'ultimo mese hanno preso più volte di mira proprio Venezia Banco Scenico Mondiale senza altro Venezia è una capitale del mondo non possiamo considerarla soltanto una capitale del cuore dei nostri sentimenti nel capitale quindi l'attenzione arriva da tutte le parti e con le parole di Monsignor Claudio Cipolla termina questa edizione natalizia io vi faccio ancora a nome di tutta videomedia di tutta la redazione del TG Veneto News gli auguri di buon Natale e di buone feste vi do appuntamento all'edizione di domani che sarà un'edizione particolare perché rivevremo insieme con le immagini e le voci di tutti i protagonisti il 2020 e 23 alla prossima edizione arrivederci Centro Medico Iris 30 specialisti sono al tuo servizio in un ambiente elegante e riservato per affrontare ogni tuo problema di salute la sanità come l'hai sempre sognata che sognata che sognata Grazie a tutti.